Il cattivo odore si sente da lontano. Le cartacce nelle aiuole sono lì da mesi e mesi. La spazzatura a giorni alterni non manca. Il degrado al porto di Torre del Greco, al molo di Ponente, nell'area parcheggio, come nelle adiacenze dei cassonetti, è sempre lo stesso. Turisti o non turisti, stagione estiva o autunnale, le cose non cambiano. Chi deve sversare continua a farlo, gli incivili continuano ad agire indisturbati, chi deve controllare continua a non farlo. La cartolina purtroppo non cambia. Il panorama resta sempre meraviglioso, ma le strutture e le carenze non trovano soluzione. Tuttavia non mancano le consapevolezze. Molti torresi dichiarano anche ai nostri microfoni che l'inciviltà la fa da padrone in questa città. Come non manca l'amara riflessione che gli organi preposti non intervengano come dovrebbero. Allora finisce per prevalere la rassegnazione e l'amarezza di chi invece da anni sogna un cambiamento e un riscatto, culturale e non solo.